salve a tutti bentornati sul mio canale oggi stiamo per salire su monte piscacca detto anche monte magnone siamo precisamente alla ceno nel parco regionale dei monti picentini in descrizione vi lascio il mio punto di partenza con le coordinate gps e in più vi lascerò anche la traccia gpx del percorso che andrò ad affrontare adesso non ci resta che partire seguitemi fino alla fine grazie a tutti 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 grazie a tutti